Roberto della Casa, grazie per questa panoramica che ci ha fatto oggi in occasione di questo incontro internazionale dedicato alla ciliegia. Fra l'altro Vignola, Modena è un po' la sua origine. Da bambino lei correva in questi campi, no? Sì, diciamo che la frase nessuno è profeta in patria oggi non vale. Ho visto la frutticultura di questo territorio svilupparsi ormai negli ultimi 50 anni, ahimè. E quindi ho capito cosa abbiamo fatto di positivo, cosa dobbiamo ancora migliorare e cosa può essere distintivo conoscendo questo territorio, devo dire proprio un po' come le mie tasche. Cosa dobbiamo migliorare? Partiamo da lì. Dobbiamo sicuramente migliorare la visione di quello che oggi è un prodotto ortofrutticolo. La ciliegia non è più un frutto. La ciliegia oggi è potenzialmente un dessert o uno snack in grado di fare concorrenza ai migliori prodotti dell'industria. Non solo perché fa bene alla salute, e questo lo fanno un po' tutti i prodotti ortofrutticoli, chi più chi meno, ma soprattutto perché è buono. Cioè la dolcezza e il fatto che una ciliegia tira l'altra, che non solo è un proverbio ma è anche una cosa vera, oggi può essere una chiave di lettura per aumentare i consumi senza necessariamente cannibalizzarli fra un prodotto ortofrutticolo e l'altro. Questo probabilmente è l'elemento dal punto di vista del consumo più interessante. Poi c'è un altro aspetto altrettanto importante. Le miglie della Romagna, che sono territori vocati alla frutticoltura, hanno sviluppato e hanno fatto sviluppare anche aziende che sono in grado di lavorare, di selezionare e di creare le condizioni per avere prodotti il più possibili, uno uguale all'altro, che sono oggi le richieste del mercato e che consentono di poter portare anche molto lontano migliaia e migliaia di chilometri di distanza, prodotti che sono apprezzati nei mercati, ad esempio dell'Asia, con prezzi che nel nostro paese o in Europa non sono raggiungibili. Per fare questo abbiamo il prodotto giusto, abbiamo la storia giusta, questa di questa rocca, ad esempio, va unita al prodotto e in più abbiamo anche le tecnologie italiane fatte in questo territorio che possono dare a questi prodotti la forza necessaria a diventare leader nel mercato mondiale. Cosa cambia tra Emilia Romagna e Puglia, per esempio, un'altra area interessante? Guardi, il tema chiave secondo me, soprattutto sulla ciliegia e non solo sulla ciliegia, è che noi dovremmo lavorare a fare in modo che le nostre eccellenze combattano per essere una meglio dell'altra. Questo è stato il grande successo del vino. Il vino ha progredito e ha migliorato le sue condizioni semplicemente perché tutti i viticoltori e tutti i vinicoltori hanno provato a essere i più bravi. Questa competizione a cercare eccellenza oggi può essere riscoperta in Italia, non solo in Puglia, in Campania, in Veneto, in Emilia Romagna ma anche nelle aree alpine. Non dobbiamo dimenticare che oggi la cerasicultura tardiva, quella che avviene il luglio ed agosto trova in questi bacini di produzione delle aree straordinarie per fare prodotti di caratteristiche veramente uniche al mondo. Oggi l'agricoltore purtroppo è in sofferenza, causa condizioni climatiche. Questo purtroppo è qualcosa che subiamo, che non possiamo modificare. Quello che possiamo fare è essere capaci di conviverci in due modi. Prima di tutto con la protezione. Oggi abbiamo visto tecnologie straordinarie. Si può produrre all'interno di un cerasetto dove la produzione è protetta dagli eventi climatici. Per esempio ci sono reti che possono fare il caso nostro per quanto riguarda la pioggia, il problema di questa settimana, ma anche per quanto riguarda gli insetti, che cominciano a diventare un problema in molte culture ortofrutticole. La tecnologia ci può dare le condizioni per convivere con un mutamento che non possiamo ancora oggi sapere esattamente dove arriverà, ma che ci porta a condizioni che per diversi anni mettono l'agricoltore in sofferenza se non abbiamo le tecnologie giuste per arginare questi fenomeni.